Sebastiano Siani, un strarico commerciante, aveva fatto il proprio fondale sul commercio di pevare e di attività di banchieri. Un po' stando che è giù delle attività diplomatiche e grazie agli ambassatori, in particolare, quelli che fanno parte alle famiglie che avevano determinato la sua elezione, e adesso è stato buono di venire in giù Venezia e Veneto su una posizione centrale rispetto alle tre potenze mondiali. Con il Bizantio, è stato buono di indirizzare le Russe, grazie alla protezione militare delle nai bizantini, parliamo anche commerciali in dell'Adriatego.